Ciao, mi chiamo Giulia e in passato ho svolto il servizio civile presso la città metropolitana di Torino. Posso consigliarvi di provare ad accedere al bando e entrare anche voi come civilisti in questi uffici perché effettivamente per me è stata un'esperienza davvero molto bella. Ho imparato molto, mi sono divertita molto e soprattutto quello che ho fatto all'epoca ancora adesso è il mio lavoro quindi può essere un buon trampolino di lancio. In bocca al lupo a tutti! Grazie!